Operazione contro un clan Rom in Calabria. Sì, a Catanzaro un clan è stato smantellato, aveva ereditato la struttura tipica dell'Andrangheta. Da Cosenza ci aggiorna Maria Teresa Santaguida. Sì, l'inchiesta ricostruisce l'ascesa di un gruppo criminale di etnia Rom, lo avete detto, nei quartieri a sud di Catanzaro. Per la prima volta viene contestata l'associazione mafiosa. Da manovalanza impiegata dalle cosche storiche del crotonese a clan, autonomo con tanto di doti, dranghetiste e la possibilità di battezzare nuovi adepti. L'operazione della squadra mobile del capoluogo era iniziata nel 2016 e ha portato ieri all'arresto di 62 persone, di cui 38 in carcere e 24 ai domiciliari, smantellando anche altre due organizzazioni che trafficavano droga. Decisivo il contributo di alcuni imprenditori e commercianti che non si sono piegati alle logiche mafiose, hanno trovato il coraggio di denunciare e dunque collaborare con la giustizia. Un'evoluzione, quella del clan Bevi l'acqua passa l'acqua, che non è stata in dolore. Infatti il tentativo di affrancarsi dalle cosche storiche è stato contrastato all'inizio, lo dimostrano due omicidi compiuti nel 2015 e nel 2017, che secondo gli inquirenti troverebbero proprio l'origine in questi contrasti per la voglia dei nomadi di acquisire un potere proprio. Il patto, ha spiegato poi il procuratore Gratteri, è un segnale invece di evoluzione dei clan tradizionali che hanno pensato fosse più redditizio, evitare ulteriori spargimenti di sangue concedendo l'autonomia e continuando a fare affari. Da Cosenza è tutto, Napoli.